E' morto il principe Costantino dell'Echtestein, aveva 51 anni, l'annuncio della famiglia è degeduto inaspettatamente. Il principe era settimo in linea di successione al trono ed era il terzo figlio del principe regnante Hans Adam II. L'annuncio della casa reale. La casa principesca si rammarica di annunciare che il principe Costantino Vonand Zullichtestein è deceduto inaspettatamente il 5 dicembre 2023. Si legge in questa nota una morte che rimane improvvisa e tuttora però al volta nel mistero. L'uomo era padre di tre figli, settimo in linea di successione al trono ed era il terzo figlio del principe regnante Hans Adam II. Il principe aveva studiato legge prima di diventare direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della fondazione principe dell'Echtestein, mansione che ha svolto poi per 11 anni. Così infatti si legge nuovamente il principe era presidente del consiglio e membro del consiglio di amministrazione. Il giorno dopo del cesso poi il Parlamento regionale ha tenuto un minuto di silenzio per rendere omaggio alla più alta carica reale.